E' ormai un piccolo caso internazionale, la cacciata del sindaco di Viereggio, Giorgio Del Ghingaro, dal ristorante del club nautico Versilia, dove martedì sera il primo cittadino è stato allontanato dal tavolo perché in Bermuda. Una violazione del dress code del circolo privato, che esplicitamente prevede pantaloni lunghi dalle 19 in poi. La notizia, incredibilmente, è stata ripresa da tutte le testate nazionali. Tgcom 24, Sky Tg24, Rai News. Il Corriere della Sera ha persino dedicato un corsivo della sua firma Beppe Severgnini. Pagine e pagine su affaritaliani.it, il messaggero, il giornale, ma anche le testate estere si sono buttate sulla storia del sindaco pizzicato a gambe nude nel locale sul porto. Il quotidiano turco, Yurt e addirittura la britannica BBC News, che titola sindaco italiano espulso dal ristorante per aver indossato pantaloni corti. Ma a scatenare commenti a go-go sul web sono state le dichiarazioni rese al Corriere da Del Ghingaro. Buttato fuori per un paio di Bermuda pagati 250 euro. Ero vestito con abiti firmati per quasi 1000 euro, 2000 con l'orologio non da straccione. Dichiarazioni, quelle dell'ex esponente PD, oggi MDP, che hanno scatenato reazioni a sinistra e a destra. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dedicato un post al sindaco di Viareggio. Il quotidiano libero ha persino lanciato un sondaggio. Insomma, una polemica rovente, da ombrellone, dall'eco inaspettata, che per sgonfiarsi può solo sperare nella buona riuscita del Bermuda Party, la cena lanciata dal club nautico con una mano tesa a Del Ghingaro, primo degli invitati, forse per ricucire. Vedremo se basterà per chiudere il caso.